Esistono paesi, non voglio fare nomi, in cui lo stato di emergenza è un'occasione ghiotta per poter lucrare sui problemi delle persone. Abbiamo visto questi paesi come in passato sono stati il simbolo della modernità dei sistemi economici e oggi sono invece diventati il simbolo dei paesi corrotti a livello economico. A tutti i livelli, a tutti i settori la corruzione genera problemi, malati, povertà, morte. Non esagero quando dico questo, prova a pensare per esempio nel sistema salute. Esistono i cittadini che pagano le tasse, le tasse vengono versate allo Stato e questi soldi che dovrebbero servire per gli ospedali, le cliniche e poter dare dei servizi preventivi oppure pagliativi oppure di cura ai malati non possono essere espletati. Oppure ospedali a cui mancano i medicinali, ospedali a cui mancano i reparti operativi, oppure ci sono cinque sale operatori ma ne funzionano solo una, mezza delle volte. Oppure chirurghi che devono operare con strumentazioni non adeguate o non poter mettere in atto dei sistemi di prevenzione sulla popolazione e quindi di screening. Questo genera malattie. Parliamo non di una terra dei fuochi, parliamo di un mondo dei fuochi dove la commissione tra mafia, camorre e chi sta dentro al comando delle ASL genera il malfunzionamento del sistema. Un sistema che con tutte le tasse che si pagano potrebbe essere un sistema d'alto livello. Prova a pensare a Cuba. Cuba non è una nazione ricchissima, anzi poverissima, però ha uno dei migliori sistemi pubblici al mondo. Un sacco di americani ogni anno vanno a Cuba a farsi curare perché ha i migliori medici messi nelle condizioni di operare dal sistema pubblico. Immagina un paese dove vai a fare la visita in ospedale, trovi una lista d'attesa lunghissima, fai la visita dopo un tot di mesi e a un certo punto ti viene dato in mano un bigliettino da visita dello studio privato del medico che ti ha curato. Ma questo non succede in Italia. Immagina un paese dove nei reparti scompaiono per esempio gli strumenti, dove nei reparti odontoiatrici, universitari, ASL, non si può oggi curare una persona perché non bastano più le turbine, i trappani per curare le persone. I trappani non è che non sono acquistati, sono semplicemente spariti da dentro ai reparti. Da poco un articolo dove sono stati trovati farmaci anestetici, ospedalieri all'interno di una grossa catena franchising odontoiatrica italiana. Dentro al pubblico si consumano ogni giorno furti verso la salute dei malati, oppure che possono essere piccoli furti di poche attrezzature, ma possono essere talvolta furti di budget interi destinati alla sanità. Non parlo di tutti, delle volte ho visto alcuni primari di certi ospedali oppure di certe cliniche odontoiatriche pubbliche, sembravano più politici che dentisti. E la camorra, la mafia, delle volte sta molto vicina alla politica perché la politica lascia passare attrezzature, budget o convenzioni per poter espletare trattamenti venendo poi ripagati dallo Stato. L'ASL non può avere dei fornitori privati, l'ASL dovrebbe avere i suoi fornitori, il sistema pubblico potrebbe costruire domani stesso le fabbriche di materiali, di farmaci, potrebbe avere un'equip di gente che lavora come per esempio nel comparto odontoiatrico alla realizzazione di protesi. Quando tu subapalti al privato materiali, forniture, attrezzature, c'è sempre una tangente da pagare e questo è un costo che ricade tutto sui cittadini, tutto sulla qualità dei trattamenti che vengono eseguiti. Una carrozzina del costo di 60 euro, 150 euro che poi arriva a costare al sistema sanitario 1000-1500 euro, significa che si possono comprare 9 carrozzine in meno. Si lucra a tutti i livelli, la corruzione e lucrare nella sanità pubblica porta all'impoverimento del sistema, non è che il sistema non è possibile, semplicemente in questa maniera il sistema non funziona perché non c'è il controllo. Si lucra persino dopo la morte, gli obitori degli ospedali pieni di avoltoi che si occupano poi di mettere dentro la salma e la gestione del suo funerale, biglietti da visita che passano di mano in mano tra infermieri, medici o valigette di soldi che arrivano nella stanza privata su un tavolo di un dirigente ASL. Il pubblico insomma è diventato questi anni una bella vasca dove ci si può andare ad abbeverare se si hanno interessi privati. La corruzione in questi settori strategici è la vera causa. Servirebbero delle sentinelle che entrano all'interno di questi sistemi e smascherano quelli che sono i sistemi di corruzione, ne basterebbero due, tre. Dopodiché non si saprebbe più riconoscere chi è un agente sotto copertura oppure chi è un vero corruttore e tutti si asterrebbero da fare gare da palti truccati e da stringere accordi con fornitori che fanno creste sui materiali. Ricorda, la sanità pubblica è possibile, ma deve essere una sanità protetta, un sistema dove non è possibile fare entrare all'interno la mafia. E la mafia non è, la mafia non sono delle persone, la mafia è un modo di pensare, un modo di agire, un modo di vivere, un modo di comportarsi. Rifletti attentamente su tutto questo.